Ciao a tutti ragazzi sono il piccolo rubi e oggi volevo parlarvi dei social media e letteratura questo connubio che da qualche anno a questa parte insomma l'ho trovata una accoppiata vincente ho trovato un mondo che insomma qualche anno fa non c'era io vi parlo di quando ero adolescente io insomma non c'erano smartphone, telefoni, instagram piuttosto che blogger piuttosto che youtube e quant'altro e devo dire che nel tempo insomma le mie letture sono cambiate anche grazie ai social media vabbè io uso principalmente youtube ma vi potrei parlare anche di blog, vi potrei parlare anche di bookstagram e quant'altro mentre prima magari facevo delle letture molto settoriali proprio perché non avevo la possibilità comunque di confrontarmi con altre persone che leggevano finivo per leggere solamente fantasy quindi io andavo in libreria, andavo nel reparto fantasy, vedevo più o meno se c'era qualcosa che mi interessava e andavo a vedere anche il reparto dei classici infatti durante la mia adolescenza ho letto tutti i classici che dovrei in qualche modo rileggere perché è passato veramente tantissimo tempo e alcuni non li ho apprezzati appieno proprio perché la mia giovane età non me lo ha permesso e quindi facevo delle letture veramente molto settoriali un'altra cosa che mi dava in qualche modo l'input per insomma conoscere altri titoli era l'Euroclub so che adesso esiste ancora paradossalmente comunque l'Euroclub era un catalogo di libri che ti arrivava a casa praticamente c'erano sui titoli del momento oppure altri titoli e quant'altro voi compilavate la bolla, la spedivate ovviamente col codice eccetera eccetera in dirizzo e poi vi arrivava con eoni di ritardo cioè non è come adesso che vai su Amazon Prime dal giorno ti arriva e buonanotte prima era veramente molto complicato anche comprare i libri vabbè poi c'era la postal market che era veramente un baluardo però devo dire che in casa mia arrivava anche quello e sì mi ero approcciato anche a Pasiglinna, avevo letto Il miglior amico dell'orso ma anche lì non l'avevo compreso e capito e quindi la mia adolescenza è stata tutto un circolo di letture che insomma vertevano sempre sugli stessi generi mi rendo conto che un adolescente di oggi quindi una persona che ha dai 13 ai 16 anni ha moda e maniera di approcciarsi a tantissimi letture di conoscere magari autori nuovi, di avere la possibilità comunque di interagire con delle persone che parlano di libri il motivo per cui io sono su YouTube oltre che a dimostrare la mia infinita deficienza è anche quello di potermi confrontare in maniera civile, molto spesso purtroppo non è così con altre persone che parlano appunto di libri quindi trovare un confronto civile cerco in qualche modo di consigliarvi qualche titolo che magari non si vede qui sul canale e quant'altro tipo per esempio Morabia che in questo momento ho in lettura oppure ho parlato di letteratura giapponese, di Renine Mirovski e quant'altro e io sono sempre aperto al dialogo e insomma alla civiltà e all'educazione come spesso accade però non è così ma quella è un'altra storia quindi le mie letture diciamo che sono molto cambiate appunto grazie o per colpa dei social media perché mi hanno dato modo e maniera di interagire con persone che leggevano e di scoprire altre saghe fantasy che magari in libreria non avrei mai visto anche se magari c'è qualche novità ma io vi parlo della mia libreria di Pavia non ha tantissimo diciamo nel reparto fantasy più o meno vedete sempre le solite cose insomma qualche uscita però trovate una o due copie ma è molto difficile quindi mi ha permesso di ampliare quello che è il mio genere preferito il fantasy che io ho continuato a leggere perché è un qualcosa che io mi porto dietro proprio da tantissimo tempo è stato il mio primo genere quindi io continuo a leggere fantasy e mi ha dato modo e maniera di conoscere altre saghe fantasy come per esempio Shadowhunters io non l'ho amata alla follia è stata una lettura di intrattenimento che ho come si dice a tratti ho dimenticato però in quel contesto storico ci stava in quel contesto storico comunque aveva un suo perché quindi perché no insomma però devo ammettere che non è diventata una delle mie saghe preferite insomma da poter fangorolare eccetera eccetera poi ho scoperto le cronache lunari per esempio una saga che devo ancora finire ho scoperto Miss Peregrine ho scoperto veramente tantissime ho scoperto veramente tantissime saghe quindi io ho ampliato il mio orizzonte fantasy che era sempre ristretto a vado in libreria a comprare a vedere se c'è qualche novità e mi ha dato una maniera di scoprire altre insomma la letteratura giapponese per esempio che è una letteratura che io non avrei mai considerato se ci fosse stato youtube per dire altri autori tipo per esempio vabbè zero calcare è stato proprio una cosa abbastanza bislacca però anche il fatto che se ne sia parlato veramente molto sul canale cioè sulla community di booktube mi ha dato anche moda e maniera di poterne parlare cioè di poterlo insomma di poterlo leggere e poterlo veramente apprezzare poi vabbè King l'ho scoperto abbastanza casualmente e poi l'ho scoperto anche Philip Roth io mi sono apprezzato quest'anno a Philip Roth adesso l'ho messo un po' in stand by per dare moda e maniera di dare spazio ad altri autori e quindi diciamo che mi ha dato moda e maniera di espandere i miei orizzonti letterari poi ci sono stati autori consigliati da altre persone che io ho letto e magari non mi sono piaciuti e non ho più approfondito oppure ci sono stati degli autori che ho dato una seconda possibilità ma alla fine ho detto no al colesterolo e neanche a balsoia comunque devo dire che insomma il social media e cultura insomma e libri è una copiata vincente certo è che se io sto su youtube traspare anche la mia personalità in questo caso la mia deficienza ma questo penso che si riconosca mentre su instagram o comunque su un blog traspare molto insomma a quello che è la bellezza magari della foto o la recensione se viene fatta in una maniera curata la cura che si dà del blog e quant'altro quindi traspagliano tantissime cose e il bello è quando ti insomma ti arrivano i messaggi e dire guarda grazie a te io ho scoperto il tal libro io l'ho apprezzato e quant'altro può succedere il contrario insomma non è che dobbiamo per forza avere gli stessi gusti non è che se una persona sta su youtube dice no vabbè quello che dico io e legge quindi se è bello allora effettivamente bello no la persona può anche in qualche modo non piacere quel libro è capitato insomma però non è mai morto nessuno da utente diciamo che mi piace guardare le recensioni approfondite cioè mi piace quando alla recensione si dà anche un lato positivo un lato negativo del perché è piaciuto perché non è piaciuto e quant'altro mi rendo perfettamente conto che ci sono anche persone che vanno molto a sentimento tra virgolette quindi usano il sentimento la pancia insomma l'ho fatto anch'io con Fallen insomma che continuo a sottolineare che non è un capolavoro perché se no mi linciate e quindi sì io vado a ricercare comunque la recensione accurata che mi dà modo e maniera di avere una recensione a 360 gradi del libro e quindi di riuscire in qualche modo a capire se quel libro mi può piacere o non mi può cioè mi può piacere o non mi può piacere a seconda insomma di quello che sta dicendo la persona perché magari questo libro non l'ha convinto per determinati motivi però riconosce che ci sono delle cose positive magari quelle cose positive che ne so il triangolo amoroso mi convincono a leggere quel romanzo quindi io vado a cercare sempre quelle recensioni dove c'è un approfondimento vado sempre a cercare recensioni che hanno magari i miei stessi gusti quindi di persone che leggono fantasy young adult e quant'altro però vado anche a cercare insomma quelli che non fanno le mie stesse letture o comunque mi possono dare gli spunti per conoscere qualche altra cosa per conoscere insomma qualche altro autore per conoscere qualche libro nuovo insomma e insomma questa cosa mi è mi è cioè ho sempre ricercato questo dicevo ci sono delle recensioni che vanno di pancia ovviamente perché non è che possiamo pretendere che tutti stiano lì a fare un'analisi tecnica del perché e per come io personalmente cerco di essere sempre il più obiettivo possibile nei libri cioè di dire l'aspetto positivo e di dire l'aspetto negativo in modo che una persona può in qualche modo giostrarsi nella recensione quindi dire sì effettivamente io voglio leggerlo per questo motivo o no non lo voglio leggere per questo determinato motivo non vuol dire che i difetti o le cose negative che io ho trovato nel libro per voi possono essere positive e viceversa quindi per quanto mi riguarda cerco sempre di portare qualcosa di innovativo adesso devo ritornare con la letteratura erotica perché vabbè e dicevo anche la recensione di pancia mi piace non è che dicevo dobbiamo stare lì a vedere punto per punto a fare una un'autopsia del libro per amor del cielo però quella recensione mi deve dare moda e maniera di convincermi a comprare il libro cioè è capitato che vedessi la recensione di una booktuber che diceva no a me questo libro assolutamente non è piaciuto di qua e di là e c'era qualcosa che mi aveva convinto a comprarlo effettivamente anche a me quel libro non è piaciuto però quella recensione è stata utile nonostante insomma il suo parere non fosse entusiasto di di riuscire ad invogliarti a comprare il libro se non domani quando uno c'ha le possibilità insomma quindi devo dire che oggi siete abbastanza fortunati insomma ad avere questo spazio dove poter parlare di libri questo spazio dove potete confrontare questo spazio dove potete conoscere tantissimi lettori perché ripeto ai miei tempi ma mi sento come non non anni insomma questo fatto non era assolutamente possibile anche perché uno dei motivi del quale una persona sta su youtube su instagram o c'ha un blog eccetera eccetera è proprio per trovare delle persone con cui parlare di libri perché nella vita reale insomma è molto difficile per quanto mi riguarda è molto difficile trovare comunque una persona che possa parlare di libri a meno che non vai alla fila del libro a Milano o alla fila del libro di Torino che comunque c'è la reunion e quindi insomma puoi in qualche modo parlare di determinati libri io sono stati a questi eventi e ci sono state delle persone che sfortunatamente mi hanno incontrato voi pensate che bella giornata sì però calcolate che sono una volta all'anno cioè voglio dire sono anche fiere che non è che possono esserci tutti i giorni anche perché comunque hanno dei costi e quindi o ti crei un club del libro con dei pasticcini alla crema di limone o del tè però voglio dire è veramente molto difficile anche perché non ci sono o comunque per quanto mi riguarda non ci sono mai stati dei luoghi di aggregazione cioè non si è mai avuto questa opportunità di fare che ne so la biblioteca di quartiere che c'è adesso per dire però fare che ne so un club del libro per dire chi vuole partecipare insomma si può discutere di squisire e quant'altro cioè sarebbero delle iniziative molto belle il problema delle biblioteche secondo me io vi parlo della mia realtà è che dovrebbero essere ampiamente valorizzate e il modo insomma uno dei modi potrebbe essere anche questo però insomma già tanto che ti do dei soldi che pretendi insomma quindi devo dire che io mi ci trovo veramente molto bene insomma durante durante tutto questo tempo che io sono su youtube io ho sempre insomma ho usato la lingua lunga e quello è la mia irrazionalità che mi hanno danneggiato e io questo lo riconosco faccio mia colpa però io devo dire che non ho mai offeso nessuno sul personale non ho mai insomma litigato aspramente anche perché voglio dire per me youtube è youtube e finisce su youtube cioè nel senso non io su youtube non ho creato amicizie proprio perché non mi interessa onestamente cioè io le amicizie certo le amicizie ce le ho fuori mi basta solamente avere un rapporto civile con le persone insomma poi ripeto se ci si vede e ci si incontra a me fa piacere tantissimo per amor del cielo però ecco non sono una di quelle persone che ha insomma creato legami perché fondamentalmente non mi interessa ecco perché per me youtube rimane una passione rimane il parlare di libri il confrontarsi con le persone e buonanotte come ho già detto in un altro video a me la maleducazione da parte di alcuni utenti non è mai piaciuta io penso che ci voglia anche rispetto per le persone che creano contenuti e che ci mettono la faccia per dire determinate cose che se una persona parla male di un libro non sta assolutamente offendendo nessuno e non vuol dire che sia deficiente io o sia deficiente voi perché voglio dire ci sta che un libro possa piacere o non piacere ripeto il tutto deve essere sempre fatto con educazione comunque di questa cosa ne ho parlato in un video non mi sto a dilungare troppo benissimo fatemi sapere voi che cosa avete scoperto grazie a booktube che cosa avete insomma come booktube ha influenzato anche i vostri acquisti il vostro mondo e quant'altro magari se c'è gente che c'ha la mia età come trovava moda e maniera di entrare in contatto con i libri nuovi fatemi sapere tante cose belle io vi saluto vi mando un grosso bacio mo me sa che me sta sta lì la febbre con sto cazzo dei denti del giudizio mi vado a misurare la febbre no la temperatura scusatemi e niente io vi saluto vi darò aggiornamenti sul mio stato di salute su Instagram dove potete trovare i link in questo caso non li trovate fatemi sapere io vi mando un grosso bacio ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao